Ciao a tutti, benvenuti su Spasso X. Oggi affrontiamo una notizia incredibile che arriva dal Medio Oriente. Immaginate, Israele avrebbe neutralizzato per un anno intero la capacità missilistica a lungo raggio dell'Iran, un paese che da anni sfida apertamente Tel Aviv con il suo programma di sviluppo missilistico. Scopriamo insieme come hanno fatto e perché queste manovre stanno alzando pericolosamente la tensione nella regione. Israele e il sabotaggio dei missili iraniani. Che cosa è successo? Secondo le informazioni trapelate, Israele ha sabotato ben 12 miscelatori planetari, strumenti sofisticati necessari all'Iran per produrre combustibili solidi per i missili a lungo raggio. Questi macchinari non possono essere prodotti autonomamente dall'Iran e vengono importati dalla Cina, rendendo l'acquisto e la manutenzione particolarmente difficili e costosi. Ma come funziona questo sabotaggio? E quali implicazioni ha per l'Iran? I miscelatori planetari sono componenti essenziali. Servono a mescolare con estrema precisione e stabilità i materiali per i combustibili solidi, garantendo la potenza e la precisione dei missili balistici a lungo raggio. Con questi macchinari fuori uso, i programmi iraniani potrebbero subire un significativo ritardo, rallentando lo sviluppo delle tecnologie missilistiche per almeno un anno. Il contesto geopolitico. Iran, Vassar, Israele. Questa operazione di sabotaggio arriva in un momento delicatissimo. Il conflitto tra Israele e l'Iran è una delle questioni più critiche per la stabilità del Medio Oriente, con entrambi i paesi che intensificano azioni e retorica. L'Iran ha recentemente lanciato decine di missili verso Israele in risposta a diverse operazioni militari contro gruppi alleati iraniani, come Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza. Israele considera le capacità missilistiche iraniane una minaccia diretta e non ha mai nascosto la volontà di limitarne lo sviluppo. Gli Stati Uniti e alcuni paesi europei sostengono Israele in questa sua difesa attiva, ma il rischio è che questo conflitto possa trascinare altri stati in un'escalation violenta. Le possibili conseguenze di questo sabotaggio. Questo sabotaggio potrebbe sembrare solo una mossa tattica, ma potrebbe avere ripercussioni globali. Se l'Iran dovesse rispondere, non è escluso che altri paesi, direttamente o indirettamente coinvolti, possano essere trascinati nel conflitto. Non dimentichiamoci che l'Iran ha già promesso risposte distruttive contro qualsiasi interferenza esterna a favore di Israele. Se avete trovato interessante questo approfondimento e volete rimanere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo, iscrivetevi a SpassoX e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Alla prossima!